Musica Cominciamo con i tabelloni del campionato di calcio alla schedina della Serie A Bologna e Perugia 1 a 1 A Cagliari Cesena batte Cagliari 2 a 1 A Como Fiorentina batte Como 1 a 0 Juventus batte Inter 2 a 0 A Milano Torino batte Milan 2 a 1 Napoli Ascoli 0 a 0 Roma batte Sampdoria 1 a 0 Verone Lazio 2 a 2 Brindisi batte Taranto 1 a 0 Foggia batte Spal 1 a 0 A Genova Catanzaro batte Genua 1 a 0 A Trento Lecco batte Trento 3 a 2 Teramo batte Lucchese 3 a 1 Montepremi Totocalcio 1 miliardo 860 milioni Pochi 13, sono solamente 6 e vincono 155 milioni I 12 sono 85 e vincono quasi 11 milioni Vediamo la classifica della Serie A In testa Paiate Juventus e Napoli con 14 punti Segue il Torino 13, Cesena 11, Bologna 10, Milan Perugia Roma e Ascoli 9 Fiorentina Inter e Sampdoria 8, Verona 7, Como e Lazio 6, Cagliari 3 Ecco gli altri risultati della Serie B Brescia batte Atalanta 1 a 0 Catania e Palermo 1 a 1 Modena e Reggiana 0 a 0 Novara e Varese 1 a 1 Piacenza batte Vane Rossi Vicenza 1 a 0 San Benedettese batte Avellino 3 a 0 Ternana e Pescara 1 a 1 Il Catanzaro battendo il Genua Da solo in testa della classifica con 17 punti Seguono il Genua e il Modena con 15 Foggia 14, Varese Novara e Brescia 13 Reggiana, Taranto e San Benedettese 12 punti Atalanta, Avellino, Le Rossi Vicenza, Piacenza e Pescara 11 punti Spal, Catania, Ternana e Brindisi 10 Palermo 9 Grazie a tutti